Oggi è una straordinaria giornata per Milano perché Milano è diventata capitale morale d'Europa, perché attraverso Milano sono partite iniziative in tutti i paesi europei, in decine di città italiane per ricordare i giusti di tutti i genocidi e il concerto di questa sera suggella quello che è stato tutto il nostro lavoro e il senso anche di un concerto che noi facciamo è quello di sottolineare che in fondo facciamo una festa per i giusti, perché una festa per i giusti significa che le persone che hanno compiuto del bene, che hanno salvato l'umanità in tempi oscuri hanno in fondo arricchito la bellezza del nostro pianeta, della nostra terra sommontando tutte le difficoltà e quindi salvando la dignità umana e quindi il concerto ha proprio questo simbolo, ha il simbolo che i giusti ci hanno trasmesso questi grandi valori che ci rendono molto migliore la nostra esistenza e ci danno un senso alla nostra vita.